Allora ragazzi qua, ripetiamo il briefing di missione I tre sono barricati in un bunker da qualche parte all'interno della struttura Gli altri li devono salvare, i tre non devono necessariamente stare fermi La vostra priorità è sfiltrare da questo punto Punteggio pieno, la squadra completa è sfiltrata Penalità per ogni eliminazione, 14 minuti I tre con me, gli altri cominciano un minuto dopo il via